La vera passione nasce molto presto. Inizia come un gioco, poi cresce e diventa parte di te. E' la passione a dirti che sei sulla strada giusta, perché non ti fa sentire il peso dello studio e della fatica. Ti avvicina a quello che avresti sempre voluto fare, ti mette in contatto con quello che avresti sempre voluto essere, ti porta dentro al tuo futuro. Con i percorsi di formazione professionale di Regione Lombardia, metti subito in pratica la tua passione e ti formi per il lavoro. Le lezioni in aula, gli stage in azienda, la formazione svolta dai professionisti del settore, ti preparano per quello che serve alle imprese di oggi e a quelle di domani. Con la giusta dose di teoria e tanta pratica, acquisisci le competenze giuste per il futuro. Ti formi per fare bene quello che avresti sempre voluto fare, il lavoro della tua vita. Metti in pratica la tua passione. Lavora per il tuo futuro. Scegli i percorsi di formazione professionale di Regione Lombardia. Lavora per il tuo futuro. Grazie a tutti.